Detto questo vorrei entrare nel dettaglio di un altro esame che puoi effettuare in studio medico o meglio a casa tua, naturalmente dopo che il medico ti abbia consegnato il kit gratuito. Questo test è da eseguire sulle feci, come ti ho spiegato non è il classico esame che puoi effettuare comunemente, è molto diverso e serve per valutare la flora batterica intestinale patogena, cioè quella dannosa per la tua salute, intesa anche come capacità di ottenere quindi un basso dimagrimento per quanto riguarda la percentuale di grasso. Ci sono molti batteri nella catena alimentare ritenuti come patogeni, dobbiamo identificarli e ridurli perché provocano eccesso di infiammazione cronica del tratto intestinale con tipici fenomeni di dolore, meteorismo e alterazione dell'alvo. Ti cito solo alcuni tra i microorganismi ricercati, come la candida, le salmonelle, la scigella e il campylobacter, tutti nomi davvero strani, però sicuramente negli esami ti sarà capitato di vederli. Lo studio si orienta anche sui virus e i miceti, i lieviti, come adenovirus e rotavirus, cioè virus per l'appunto, che sono in assoluto la causa principale di gastroenterite acute e il loro riscontro può essere anche cronicizzato. Nel mondo dei miceti poi si trovano molteplici organismi come ad esempio gli aspergilli, penicilli eccetera, questi disturbano davvero fortemente la risposta immunitaria normale del tuo apparato gastroenterico, quindi quella a partire proprio dal sistema gastrointestinale. Il secondo punto di forza di questi test è che analizzano la flora intestinale quantificando i principali batteri probiotici, saprofitici, patogeni, miceti, rotozoi e virus, quindi riusciamo ad andare molto molto nel dettaglio. I probiotici naturalmente sono quei batteri buoni che rappresentano un gruppo di microrganismi essenziali per i processi digestivi e sicuramente il corretto stimolo immunologico. Questi sono i saprofiti quindi, sono degli ospiti del tratto gastrointestinale e normalmente sono presenti ed in equilibrio con gli altri, i probiotici e un ben conosciuto e schiricchia coli che purtroppo in molti casi ci crea grossi problemi quando cresce a dismisura, provoca importanti disturbi e rallentamento della normale funzionalità dell'intestino, quindi è connesso al dimagrimento. Quando parlo di pancia piatta però io penso anche alla qualità della tua salute, e forse ragionerai e converrai che ti servirebbe sapere se a causa di questi altri saprofiti come il proteus, la clebsiella dei cocchi come l'enterococco puoi ritrovarti ad ammalarti di prostatiti, cistiti, infezioni respiratorie eccetera. Ma andando ancor più nello specifico, questo test valuta ulteriori classi di microrganismi tra cui certi batterioides e tutto questo a noi interessa perché lasciando perdere il nome strano e focalizzandoci sul danno che ci porta e che dopo dobbiamo purtroppo risanare, è proprio questo. I batterioidi hanno questo ruolo fondamentale nella risposta metabolica dell'organismo e noi non ne sappiamo proprio nulla. Sono infatti numerose le pubblicazioni che correlano la presenza di questi batteri con un indice di estrazione calorica dagli alimenti. Cosa vuol dire tutto questo? Tutto questo vuol dire che ingrassi di più, vuol dire che mangiando la stessa quantità di alimenti è più facile ingrassare. Poi possiamo avere anche altri clostridi correlati alla presenza di fenomeni fermentativi e putrefattivi che comunque alterano, ingrossano e rendono più gonfia la pancia. Hai mai pensato ad esempio che la tua pancia molte volte gonfia non per l'accumulo di grasso ma per la quantità di gas intestinali che produci all'esasperazione. Che mai è capitato di fare questo ragionamento? Adesso non ti spaventare per quello che ti sto per annunciare perché molti di noi che hanno problematiche sull'addome sono affetti da un'altra cosa veramente drastica, i parassiti. Cosa porta ad essere affetto da parassiti? Ce ne sono davvero tanti nelle carni, possono trovarsi nelle verdure, nell'acqua e possono essere veramente fastidiosi i sintomi. Anche l'attività all'aperto ed alcuni animali domestici possono contaminarci e portarci ad avere un'infezione parassitaria e tutto questo è correlato con la pancia non piatta. Influenzano infatti fortemente la risposta immunitaria del nostro organismo e determinano una sintomatologia anche molto varia, addirittura che non include solo il sistema digerente. Ti voglio dire alcune manifestazioni intestinali quindi dei sintomi più comuni come dolori addominali, prurito, nausea, vomito, costipazione o diarrea, con anche il risultato finale di rallentare il metabolismo. Con l'aumentato transito intestinale si determina l'espulsione di feci che non sono formate e che nel tempo portano a fenomeni di malassorbimento che possono anche concretizzarsi in anemia e carenze di vitamine e oligoelementi. Questo test che io propongo in studio ricerca nelle feci le larve, le uova, forme adulte o antigeni di questi organismi comunemente detti parassiti. Quando verifichi questa condizione devi affidarti ad un medico che ti aiuti a guarire in modo definitivo e così magicamente perderai molto del tuo gonfiore e dei sintomi fastidiosi correlati quindi anche questa è una diagnosi differenziale da valutare in alcuni casi in cui tu pensi sia un addome grasso e credimi le infezioni parassitari oggi ce ne sono molti di più di quanto tu pensi. Anche se molti di voi desiderano eliminare il grasso dall'addome per un motivo estetico vorrei dedicare una parentesi a spiegare quanto questa verità che non può essere ignorata possa influire sulla tua salute. Sai bene che il tessuto adiposo può essere accumulato in varie parti del corpo. Per la società medica quello più pericoloso è l'obesità viscerale altresì definita obesità androide o intraaddominale. Numerosi studi epidemiologici e fisiopatologici hanno messo in luce che l'accumulo di grasso viscerale rappresenta un fattore di rischio di malattia cardiovascolare e quello è uno di quelli più importanti davvero davvero molto importante quindi l'obesità nell'addome non è solo una questione estetica. Per definizione obesità viscerale si riferisce specificatamente ad un accumulo di tessuto adipose peri cioè intorno ad alcuni visceri contenuti nell'addome non quindi in sede sottocutanea valutabile in modo accurato con l'utilizzo di tecniche radiologiche come ad esempio la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica nucleare. È stata dimostrata una significativa associazione tra obesità viscerale e insulino resistenza della quale abbiamo già parlato ricordi ne abbiamo parlato proprio approfonditamente in un video precedente. Inoltre l'obesità viscerale è associata anche a dislipidemia cioè ipertrigliceridemia ridotto colesterolo nelle lipoproteine ad elevata densità cioè quelle buone e lipoproteine a bassa densità ldl piccole e dense, ipertensione e aumento dei marker infiabatori e infine come se non bastasse anche una diatesi trombogena. L'espressione pratica di queste anomalie cardiometaboliche trova il suo paradigma nella sindrome metabolica recentemente ridefinita dal National Cholesterol Education Program cioè NCEP e anche dall'Adult Treatment Panel 3, ATP3, sindrome metabolica o sindrome X, sindrome da insulino resistenza. Quindi come vedi tutti i puntini di cui ti ho parlato precedentemente adesso si collegano in un'unica visione globale, una visione a 360 gradi che ti porta purtroppo ad un associato aumentato rischio di malattie cardiovascolari precoce quindi i tempi ad un'età precoce rispetto a quello che sarebbe quasi normale e che condividono comunque un'obesità viscerale, una insulino resistenza come elementi focali. Un altro strumento di diagnosi che io consiglio nella diposità dell'addome e non solo è la valutazione posturale dove per postura si intende la posizione del corpo nello spazio e la relazione tra i suoi segmenti corporei. La postura può essere molto determinante nell'accentuare l'aspetto esteriore della diposità localizzata e dell'obesità viscerale. Infatti quando una postura alterata e non simmetrica la colonna vertebrale di fatto segue l'effetto di gravità dovuto alla risultante del peso che deve sorreggere predisponendo quindi ad un aggravarsi di alcune patologie come anche l'obesità viscerale e un peggioramento del tuo aspetto e sicuramente correggendo anche in parte il problema posturale otteniamo un apprezzabile risultato anche in termini di forma e aspetto fisico. Nella regione toracica e nella regione addominale. Bene, abbiamo esaurito la disamina delle principali test e degli esami di laboratorio che possono aiutare te, il professionista, ad ottenere un addome perfettamente piatto. Riguarda e fissa attentamente tutti questi passaggi. Abbiamo davvero guardato al problema del grasso addominale con una vision completa, 360 gradi. Ricorda che per qualsiasi dubbio puoi partecipare alle dirette sulla mia pagina facebook o richiedere la partecipazione ai webinar specifici. Puoi anche lasciare un commento o inviare una mail a info-studimediciama.it scrivendo nell'oggetto prima consulenza online gratuita. Il mio team è a tua disposizione per aiutarti davvero nella tua trasformazione. Ciao! Grazie a tutti!